C'è stato un incidente mortale al primo sporgente del porto di Taranto, una tragedia, un drammatico incidente sul lavoro. La tragedia si è verificata, come dicevamo, al primo sporgente, stando a quanto si è preso un operaio e rimasto incastrato tra un carroponte ed una struttura fissa della stessa nave dove stava lavorando. L'esalta dinamica dell'incidente mortale comunque è da appurare. La vittima è un uomo di nazionalità croata di 44 anni, Zeljoko Buvak, ed era imbarcato su una nave ormeggiata nel porto di Taranto, la Luca S. L'incidente è avvenuto intorno alle 16 di questo pomeriggio. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco di Taranto che hanno estratto il corpo dai meccanismi, dagli ingranaggi del carroponte, i carabinieri, ma anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del marittimo di 44 anni.